Festa del Patricinio, precessione Santa Lucia in Ortigia, modifiche alla sosta e alla mobilità. In occasione della precessione del simulacro di Santa Lucia, oggi la sosta in Ortigia assumerà alcune modifiche. Con una specifica ordinanza, il settore trasporti e mobilità sostenibile a partire dalle 14 fino alle 23 ha previsto il divieto di sosta con rimozione obbligatoria su entrambi i lati nelle secondi strade. Via Castello Maniaci, Piazza Federico di Svevia, Via Bela, Lungomare d'Ortigia, Via Roma, Via del Teatro, Piazza San Giuseppe, Via della Giudecca, Via della Maestranza. Inoltre a partire dalle 18 fino alle 23 sarà in vigore il divieto di transito momentaneo e il passaggio della precessione in Piazza Duomo, Via Picherale, Via Castello Maniaci, Piazza Federico di Svevia, Via Abela, Lungomare d'Ortigia, Via Roma, Via del Teatro, Piazza San Giuseppe, Via della Giudecca, Via della Maestranza, Via Roma, Piazza Minerva e Piazza Duomo.